Quando mi trovo microfono in mano e davanti alla telecamera di Sebastian mi verrebbe subito voglia di fare un dove siamo e allora inizio da un dove siamo siamo alla rotonda e per commentare la rotonda di quest'anno volevo dire soltanto che tutto sommato i premi grosso modo mi sembra siano stati assegnati ad opere di buona qualità. Quello che però mi lascia ancora una volta un po' d'amaro in bocca è che forse come da molto tempo a questa parte quindi non mi riferisco solo a quest'anno ma ormai è una storia lunga alcuni dipinti non vengono proprio quasi mai presi in considerazione. Ecco secondo me è questo uno dei problemi grossi per i quali il premio rotonda sta perdendo sempre più consensi da parte delle dette lavori dei pittori e che si va sempre verso un numero più basso di pittori partecipanti. Bisogna dare la speranza a tutti e ogni tanto forse bisognerebbe fare più attenzione alla tecnica usata nel lavoro ma non solo alla tecnica ma come questa è stata messa in opera alla qualità dei dipinti a prescindere dall'epoca in cui alla quale si riferiscono. Faccio per dire molte opere qui si definiscono moderne non figurative sono d'accordo però molto spesso è moderno anche questo rivolto al passato se ci si gira indietro vediamo i toti le scaiola le afro i chigine i crippa cioè sono cose che forse anche quelle più moderne abbiamo già visto è giusto premiarle per la loro qualità ma probabilmente se ci giriamo indietro ripeto si vedano cose simili. Allora cosa voglio dire si guarda e si premia la ruota che forse è più vicina alla nostra epoca del fuoco io comincerei a analizzare questo aspetto per provare a riportare qui pittori come Mazzi magari come Cresci oppure a far partecipare al premio altre persone che erano qui presenti altri artisti importanti come Tinucci come Chirici come Gino Maddio che non partecipano neppure forse proprio perché vedono i loro dipinti esclusi in partenza dalla gara questa è l'idea che mi sono fatto e forse potrebbe essere un piccolo aiuto per la rotonda dell'anno prossimo grazie